Dove ci porterà la nostra vita? Come andrà a finire questo viaggio che non smette di sorprenderci? Skip! Cardiologia De Gregori! Che si gioca per vincere, non si gioca per partecipare, chi è ferito non cade, ma continua ad andare Skip! C'è tempo di fossati! Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che ha voglia ad aspettare un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno tesi come un lino a sventolare. Skip! De Andrè verranno a chiederti del nostro amore. Quando è in anticipo sul tuo stupore, verranno a chiederti del nostro amore a quella gente consumata nel farsi da retta. Un amore così lungo, tu non darglielo in fretta. Skip! Mona Lisa! Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, mi pare che no, di patate. Ce l'abbiamo, no? Applausi a scena aperta per il nostro amore. Ce l'abbiamo, che fa, che fa? Vai, è salito! Che spiava le bambine dell'asilo, si è gasato, guardalo. Ora, alla bocca, piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Fa come gli pare, va sul palco, canta!